Allora, siamo vicini a un altro bel tosto evento in trasferta contro uno Stuni che sicuramente vi darà del vio da toccere. Sì, domenica sarà una partita dura e dobbiamo mettere sempre l'impegno che abbiamo messo nelle partite precedenti perché non dobbiamo sottovalutare assolutamente la partita fra due giorni poiché veniamo da una striscia di partite vinte consecutive e dobbiamo continuare con questa mentalità, con questo gioco che stiamo esprimendo. Tra l'altro contro l'Adri a Bari siete stati davvero bravi, li avete strapazzati nonostante veramente hanno cercato in tutti i modi di tenere i testa, almeno nella prima parte di gara. Sì, diciamo i primi due quarti abbiamo avuto un po' di difficoltà perché abbiamo concluso sopra i dieci però poi terzo e quarto qua, i due quarti finali abbiamo espresso il nostro gioco, abbiamo messo intensità nel nostro gioco e siamo riusciti a prendere più vantaggio e quindi a giocare in maniera positiva. Senti, Morena potrebbe essere un ostacolo per voi? Morena è un ottimo giocatore, lo sappiamo, è un giocatore esperto e noi ovviamente non dobbiamo sottovalutare né lui né gli altri giocatori di Ostuni perché comunque loro lottano per una posizione nei playoff e quindi una vittoria può continuare a inserirci nella lotta per il secondo posto che è adesso uno dei nostri obiettivi. Grazie.